Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Notte di terrore per Gianluigi Donnarumma e la fidanzata Alessia Elefante. Il portiere del Paris Saint-Germain e la compagna sono stati rapinati nella casa in cui vivono, nell'ottavo arrondissement di Parigi. Il numero uno della nazionale e la donna sono stati minacciati e legati da diverse persone che si sono introdotte nel loro appartamento. La BRB, brigata per la repressione del banditismo della polizia giudiziaria parigina, ha già aperto un'indagine sulla vicenda. Dopo l'aggressione, Gigio e la compagna sono riusciti a liberarsi e a rifugiarsi in un hotel di lusso poco distante dalla loro abitazione intorno alle 3.20. Il personale della struttura ha avvertito le autorità e ha inizialmente assistito la coppia. I due sono poi stati portati in ospedale in stato di shock, a parte lo spavento stanno comunque bene. I malviventi avrebbero portato via un bottino stimato in circa 500.000 euro, costituito da contanti, orologi, gioielli e pelletteria di lusso. Secondo fonti vicine al dossier, la coppia sarebbe stata legata sotto la minaccia di un'arma e Donna Rumma è stato leggermente ferito durante la rapina. Dopo il colpo nel centro di Parigi i malviventi hanno poi preso la fuga. Secondo acto 17, l'allerta è stata lanciata dal personale di un albergo vicino dove la coppia si è rifugiata dopo essere riuscita a liberarsi. Il bottino è stimato attualmente a circa 500.000 euro in orologi, gioielli, borse di lusso, dice una fonte di polizia mentre altre fonti precisano che l'ammontare dei danni è ancora in corso di valutazione. Donna Rumma dovrebbe partire domani per il Giappone insieme al Paris Saint-Germain, PSG. Oggi, doveva disputare un amichevole di preparazione contro le Avre.